Ciao ragazzi, pre-partita di Inter-Vittoria-Pölzen, che è una sfida importantissima, già perché è una partita di Champions, perché potremmo passare i gironi, ma è ancora più importante per quanto mi riguarda in questo momento, dato che l'Inter è un po' indietro in campionato, abbiamo fatto qualche figuraccia diciamo così a inizio campionato, ecco che la Champions League diventa sia uno sfogo per provare ad avere invece una buona sorte in questo tipo di competizione, ma sia anche un traino, perché sapete che vincere porta a vincere, fare dei risultati importanti, tipo dare delle certezze che si travasano anche sulle altre competizioni, lo sappiamo con la prima vittoria che abbiamo fatto contro il Barcellona ancora in casa, no? E poi abbiamo quasi, siamo venuti fuori da una crisi attraverso quel grande risultato, quindi queste cose aiutano e poi senza ombra di dubbio la Champions è fondamentale anche per un discorso economico e oltre a questo anche per un discorso di punteggio, perché sapete insomma che andando avanti in Champions si ottengono dei punti rank UEFA, per cui se dovessimo superare gli ottavi, cioè superare i gironi andando agli ottavi, praticamente l'anno prossimo saremmo in seconda fascia, qualora fossimo qualificati in Champions, quindi è una partita importante questa, proprio anche per tutti questi motivi, oltre al fatto che potremmo anche garantirci dei soldi freschi che ci servono molto già adesso, diciamo così, in più per rinnovare alcuni giocatori importanti, insomma è una partita che vale tanto, non è una partita tra Inter e vittoria per il 7, ma è una partita che per noi vale tante cose, vale un progetto, rinnovi, la stagione, obiettivi, futuro, no? C'è tutto in ballo e quindi non sottovalutiamo l'avversario, anche se chiaramente insomma ha preso un po' di imbarcate anche con altre squadre, abbiamo vinto anche in casa loro ed è chiaramente l'avversario più fragile del girone, però sappiamo che in Champions nulla è scontato e tutto è possibile, quindi bisogna mettersi con una concentrazione, una grinta tali da non poterne anche solo pensare di avere un imprevisto. Stasera invece gioca il Milan, adesso vediamo anche la formazione che ho preparato, vi dico ho un dubbietto, comunque stasera gioca il Milan e io ho un grande dubbio esistenziale da sottoporvi, devo proprio confessare, oggi è confessionale questo minutino, perché pensavo di farvi una live su Twitch e parlando di alcune cose, facendo delle reaction a dei contenuti, delle cose insomma riguardanti l'Inter, però mi ero dimenticato che giocasse il Milan e c'è il Milan stasera, ecco io vorrei farlo live, ma allo stesso tempo non vorrei vedere il Milan, perché mi provoca un dolore vedere il Milan, che non avete idea, cioè io pensare di farlo live perché c'è da seguire il Milan, mi viene male, quindi ditemi cosa devo fare, non lo so se abdicare stasera o se farla uguale, vabbè ve la metto lì, vi aggiornerò su Instagram, in ogni caso venendo a noi, a parte questo piccolo sfoghetto mio, venendo alla formazione, all'andata il loro tecnico ci ha aiutati, parlo del vettore a pelze, ci ha aiutati perché loro giocano con il 4-2-3-1 solitamente e sostanzialmente, visto invece che c'era la partita contro l'Inter, in casa loro si sono messi praticamente a specchio, con una specie di 3-5-2 simile, perché come faceva Spalletti, gioca il 4-2-3-1, che è il modulo che dà più fastidio in assoluto al 3-5-2, eppure quando trova il 3-5-2, ricordate contro l'Atalanta, i miei scleri, quando trova il 3-5-2, non è che lo usa, ha maggior ragione, no, cambia, si mette a specchio, e infatti prendevamo le imbarcate all'epoca, come l'ha presa anche un po' di vettore a pelze, ecco, quindi speriamo che rifaccia la stessa cagata, nel senso che si mettono a specchio col 3-5-2, 3-4-2-1 e altre cose, perché? Perché se giocano a specchio sull'1 contro 1, noi siamo superiori 11 su 11 rispetto a loro, oltre al fatto che siamo molto più abituati con questo sistema di gioco, quindi noi giochiamo essendo superiori nell'1 contro 1 a specchio contro i loro, e in più giochiamo con il nostro modulo, mentre loro si devono adattare, che qualcosa perdi sempre, no? Quindi speriamo che li facciano la stessa cagata. Non dovessero fare questa scelta, nuovamente, potrebbe essere un po' più, tra virgolette, difficile, perché contro il 4-2-3-1 qualcosa abbiamo di difficoltà, quindi bisogna adattare leggermente i nostri movimenti, soprattutto a centrocampo, per costruire, per fraseggiare, per venire fuori dalla difesa e impostare il gioco. E qui Celanoglu potrebbe andare un po' in difficoltà, perché sappiamo tutti, Brozvic ha imparato, cioè lui si muove tantissimo, no? Quando hai marcato. Celanoglu ha fatto molto bene in questo ruolo, però nel momento in cui è marcato, pensate all'ultima partita, no? Ha fatto un po' fatica. Quando è marcato, si muove, ma non tanto quanto Brozvic, che è veramente qualcosa di infinito, cioè il moto perpetuo, e quindi potremmo avere qualche difficoltà nell'impostazione dal basso. Quindi per cui, ecco che vi spiego, questa cosa in parte già anche spiega il mio dubbio, cioè di Marco. Io avrei messo Gosens, perché evidentemente Di Marco attualmente ha fatto molto bene, ha fatto grandi partite ultimamente, c'è molto d'aiuto, però è chiaro che un giocatore che ha una resistenza un po' così e forse, insomma, dovrebbe un po' un attimo riposare e dare spazio a Gosens. Però appunto, proprio in questa partita, potremmo avere molto bisogno della tecnica, della costruzione del piede di Di Marco, invece. E quindi non me ne priverei dall'inizio, anche se l'ultima partita ha fatto molto male, insomma, ecco, non me ne priverei, gli darei spazio, proprio per questa cosa che ho appena spiegato, oltre al fatto che l'Inter deve fare una gara in casa, di grande possesso, non come l'ultima contro la Fiorentina di difesa, perché gli altri hanno il possesso della palla, eccetera. Deve fare, l'Inter è una gara di possesso, di costruzione, di assedio, di controllo della sfera e cambiarla da una parte all'altra e arrivare con la tecnica dentro all'area, perché magari gli spazi sono un po' più corti, perché si difendono bassi, altre cose. E quindi ecco perché alla fine, anche se avrei dato spazio a Gosens, andrei comunque come scelta iniziale su Di Marco, poi Gosens avrà comunque spazio, secondo me attualmente forse sta quasi, cioè comincia a essere più in forma Gosens che Di Marco, che ha bisogno di un attimo di riposo. Però appunto c'è questo motivo tecnico-tattico che mi fa comunque propendere per Federico. Ecco, poi, dicevo all'inizio, non sottovalutiamoli, giochiamo col coltello tra i denti, ma non solo offensivamente, cioè io non voglio vedere un Inter, che siccome bisogna vincere, al primo o secondo parte tutti in attacco, tutti veramente gli undici che si attacca, queste robe che ogni tanto perdiamo un po' la testa e facciamo quando bisogna per forza vincere, tutti alla ribalta, no? Ecco, sì coltello tra i denti va benissimo, anche offensività va bene, aggressione, però cerchiamo di mantenere anche l'equilibrio, di non fare errori e di non farci trascinare dall'entusiasmo e ecco, e cerchiamo di avere la testa che funziona. È comunque una partita da non sottovalutare, in ogni caso, perché se anche ti butti alla ribalta in attacco, super offensivo, vuoi attaccare, vuoi far gol assolutamente, vuoi distruggerli, è quello che ti pare, basta che per sbaglio, una ripartenza, un errore, una giocata un po' così, un impallo, è, e loro ti fanno mezzo gollettino, per sbaglio, eh, non perché hanno meritato, costruito loro, magari fanno anche un gol d'episodio, poi inizi a dire, oddio, non è possibile, siamo sotto, oddio, ci sfugge dalla mano, e comincia, no? Il delirio della poca lucidità, del nervosismo e altre cose, cioè, ecco, questo cerchiamo di scongiurarlo. Quindi, massima grinta in attacco, ma anche massima grinta se c'è da recuperare il pallone, se c'è da difendere, se c'è da difendere, si torna, non è che perché bisogna essere super offensivi, torna qualcuno e poi subito pronti perché si vuole segnare, quindi magari il barella di turno e il giocatore un mezzo offensivo di turno che però dovrebbe fare anche fase difensiva, non torna propriamente perché spera che i compagni recuperano la palla e poi c'è lui pronto per il contropiede. Ecco, si torna tutti, si fa un gioco di squadra, dico queste cose che sembrano banali, però non lo sono perché a livello mentale e di lucidità in certe partite queste cose non sono banali, sono fondamentali e sono l'ingrediente principale con cui poi si porta a casa la partita senza gli attacchi di cuore, gli infarti e tutte queste cose per cui, insomma, il nostro sistema sanitario nazionale è in crisi perché credo che l'Inter dia problemi diffusi di salute. Quindi, ecco, queste sono cose per me importanti. Poi, chiaramente, dall'altra parte dovesse andare tutto bene, dovessimo riuscire nel nostro intento, controllare la partita, andare avanti, chiuderla abbastanza rapidamente, però mi aspetto anche che ci sia un'ottima gestione di cambi, delle forze fisiche, che si ottimizzi al massimo la squadra perché dobbiamo gestire le forze per essere ottimizzati in tutto anche per il campionato perché bisogna veramente recuperare punti. Lautaro è stato mezzo frainteso, non voleva dire ieri in quell'intervista che è finita e non si lotta più per il primo posto. Non intendeva dire quello, è stata un po' travisata la cosa. Intendeva dire che al momento siamo talmente indietro che l'obiettivo è recuperare il quarto posto attualmente perché si va di volta in volta, però è chiaro che poi le cose possono cambiare e se uno fa bene può anche poi pensare di lottare per altro. Ci mancherebbe altro, non è che precluso siamo ancora all'inizio del campionato. L'anno scorso abbiamo iniziato in maniera simile, eravamo qualche punto indietro comunque, poi alla fine abbiamo visto che si è decisa l'ultima giornata, l'ultimo minuto, diciamo il campionato, quindi bisogna sempre stare lì. Il punto è ovviamente che il quarto posto è fondamentalissimo e bisogna recuperare punti lì perché gli altri stanno correndo davanti. Questo è palese. Quindi per questo motivo, dicevo, dovesse andarci bene la partita di domani, dovessimo essere abbastanza messi bene al sessantesimo, settantesimo, non abbiamo paura di fare dei cambi perché poi c'è la Sampdoria e bisogna rendere al massimo anche là. Quindi bisogna avere testa adesso, è difficile, ma sulla partita in sé, sul presente, ma se si può anche un mezzo iride, non un occhio intero, solo l'iride, una mezza pupilla anche sul futuro, perché adesso veramente abbiamo le coperte cortissime e bisogna performare in tutto quello che ci capita davanti. C'è il discorso Lukaku, non l'ho messo in formazione perché secondo me non è in condizione ancora. Lukaku, io dicevo che secondo me l'avremmo visto a novembre. Non so se domani possa fare 20 minuti, entrare nel secondo tempo, altre cose. Non lo so. Io spererei, francamente, io spererei che Lukaku, che non ce ne sia bisogno, mettiamola così. Spero che domani si faccia bene, che si sia abbastanza tranquilli e Lukaku non ci sia neanche bisogno di metterlo in campo, così che possa giocare magari qualche minuto in più direttamente il weekend e che magari è più sano, che è un po' più solido, perché altrimenti poi ci mette un attimo uno con il fisico di Lukaku, appena c'è un dolorino è, si ripresenta un attimo e sta fuori altre tre settimane. Quindi attenzione, che già abbiamo perso il giocatore per tanto tempo e già così è stata abbastanza grave la cosa. Che altra cosa volevo dire? Importante? Nulla. Vi rinfresco un po' le cifre, nel senso che dovessimo passare i gironi, dovessimo andare agli ottavi, di fatto l'Inter incassa quasi 10 milioni solo per il passaggio del turno, però quello che specifico sempre è che non è che il passaggio del turno vale in totale sul bilancio dell'Inter solo 10 milioni, vale almeno il doppio, almeno il doppio, perché poi ovviamente oltre al discorso, anzi più del doppio, forse quasi il triplo, perché c'è il passaggio dei gironi e c'è il premio quasi da 10 milioni, ok? Ma poi per passare, se passi i gironi, significa che hai vinto la partita di oggi o vinto la prossima col Bayern, ecco no? Quindi vuol dire altri 3 milioni, cioè passare i gironi automaticamente vuol dire che hai fatto delle vittorie anche, che valgono dei milioni, ogni vittoria sapete che vale 3 milioni, oltre a questo c'è che quando vai agli ottavi giochi le partite, due partite, e una di queste è in casa, e in casa significa che fai il pienone, agli ottavi di Champions, chiaramente l'Inter, che può beccare, comunque fa il pienone, e vuol dire altri 5, 6, 7, 8, 9 milioni di incasso dallo stadio, che non sono abbonamenti, sono una partita che non potevi prevedere, quindi sono spesso biglietti paganti, che fruttano di più degli abbonamenti, la gente pensa che sono gli abbonamenti, sono più biglietti che fanno incassare, però vabbè, e quindi sono altri milioni anche quello, metteci qualche premio magari di sponsor, che scatta se vai, cioè c'è un insieme di cose, oltre al fatto che se più vai avanti, più fai vedere la tua mercanzia, cioè i tuoi giocatori, a livello internazionale, e quindi acquisiscono anche valore, quindi c'è un discorso anche diciamo, di valorizzazione potenziale futura, questa non è una cosa contabilizzata, che potrei contabilizzarla forse, solo quando andrai a accedere al giocatore, però tutto aiuta, quindi è una roba che vale tanto, cioè passare i gironi, vale secondo me più, anzi secondo me è matematica, è così, chiaro che a livello di forse, contano i trofei, però passare i gironi, andare agli ottavi, vale molto di più, che vincere lo scudetto, oppure arrivare quarti, cioè chiaro che bisogna arrivare quarti, questo è palese, no però se arriviamo quarti, e dovessimo andare avanti in Champions, magari andiamo agli ottavi, poi andiamo ai quarti, è ottima la stagione, dal punto di vista societario, è veramente ottima, ok ovvio che noi siamo scontenti, perché non abbiamo rodato per lo scudetto, il trofeo ci mancherebbe altro, però attualmente l'Inter ha anche una situazione, che è economica, società di un certo tipo, quindi sono anche queste valutazioni da fare, quindi cerchiamo di concentrarci molto, in questo caso sulla Champions, poi testa anche il campionato appena si può, però per farvi capire, quanto caspita vale sta partita, e quindi guai a pensare, che sia una partitina, ragazzi vi saluto, se avete dubbi chiedete, per stasera io non lo so, sono molto, molto molto, è una crisi, che non mi fa stare sereno, il fatto di dover vedere il Mila, e non so se vederlo o no, infatti sono molto strano, alienato, perché ho questo, questo dubbio interiore, che mi sta lacerando, tutti gli organi vitali, io vedere, per me vedere il Mila, è uno strazio, e però volevo fare tanto la live, quindi non lo so, aiutatemi a capire sta cosa, e ci vediamo dopo, magari su Instagram, vi do notizie, su questa decisione, forza Inter, forza Inter, ma anche un po' Salzburgo, un po' Hana, un po' Grazie a tutti.